È terminato oggi nella frazione di Godano il viaggio di Paola sott'Anis, a percorso 1.700 chilometri in bicicletta sulle orme del nonno Attilio internato militare a Francoforte sull'Oder nel 1943. Il nonno di Paola si rifiutò di aderire alla Repubblica di Salò e fu inviato in un campo di lavoro nazista dal quale fortunatamente fu liberato nel 1945. Ritornato a casa dopo oltre tre mesi di cammino, Attilio pesava 43 chili e nemmeno la madre lo aveva riconosciuto. Paola ha deciso di ripercorrere il viaggio del ritorno da Francoforte sull'Oder a Sesta Godano. Partita il 20 luglio da Eisenhuttenstad è arrivata oggi nella piccola frazione di Godano, accolta da una delegazione della CGL di Genova e della Spezia insieme a Lampi, una rappresentanza dell'esercito, il comune di Sesta Godano, amici e parenti. L'emozione più grande per Paola varcare le Alpi sulla via del ritorno. Varcare il Brennero perché ho pensato a quanti di questi internati che rientravano cominciavano a sentirsi a casa seppur ancora lontani. Vedere scritto Italia su un cippo al confine penso faccia effetto a tutti. Tanti momenti difficili e commoventi in questo lungo viaggio della memoria. Decisamente mi sono trovata a varcare il confine tra Germania e Repubblica Ceca in un bosco spingendo la bicicletta senza più autonomia di chilometri e in salita spingendo da un certo punto sono riaffierata sull'asfalto ed ero in Repubblica Ceca. Nella partecipata memoria di oggi è stato sottolineato anche il dovere di ricordare. Ricordare è un dovere perché se non lo si fa si comincia sia a perdere la memoria sia a attraversare i racconti che avvengono di ciò che è stato quindi per non dimenticare e ricordare in maniera corretta. Andrei anche nelle scuole? Volentieri, se vorranno sono a disposizione. Grazie a tutti.